Musica 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 Cos'è dell'altro monte? C'è chi dice un caffone a traccia, chi non lo sa, chi non lo conosce, chi dice buono, chi è mamamante, però so vero, non è tutto quente, dicono i mammi, mi sa via, torno il caffone a questa fattiglia, mi metto andando al suo televisore, e mangiando il neve, carmelo e tono, mi rispondo un'altra, se non essere un mato, se è fatto un uomo, sono proprio contento, non c'è depressa, mi metto le riempie, ma riremo a poco, per me sto fatando, Torno d'orso, a buono guardate, diciamo che è di tutto una che sta, non c'è lavoro, ma che avendo a fare, va via il tuo caffone a tirare, ma come fa? Il signore, il pezzo, il capone, il signore, la tu sa, la tua, la tua, la persona, la tua, la tua. C'è pure chi dice un successo, si sa, ma è troppo poco per una qualità, è un fenomeno nazional popolare, sì, è facile di cui è bello a parlare. A me fa tanta casino facciare, ha detto il Fredo da sopra all'attare, il genovino il caffone, si sa, ha messo e fornuti, ha me ce l'ha guardato. Dei professori di grande cultura, filosofia e magistratura, sei canadena, che grande figura, è meglio il caffone che la falsa cultura. Il signore, il pezzo, il pezzo, il capone, il signore, la tu sa, la tua, la tua, la tua, la tua, la tua. E la tv sta su di schifezza, su tutto cogno, compiare la mogliezza, c'è un po' fino sulle culette, sì, ecco perciò che nessuno è guarizzo. Tu copi a me, io copi a te, e saluto ma sto beffè. Italia, 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 Italia!